Allora, amiche e amici miei, io vi aspetto insieme all'editore del Vecchio, venerdì 8 dicembre, presso lo stand E50 della fiera Più Libri e Più Liberi di Roma, dalle ore 17 alle ore 18.30. Trovo che non ci sia un'atmosfera più adeguata per conoscerci e stare un pochino insieme. Insieme a me e all'editore ci sarà il mio libro Una morte sola non basta, nel quale ho descritto il fascino della mia Roma dagli anni 50 agli anni 70, ma anche la violenza e la perversione che si possono celare dietro a dei sipari tanto rispettabili. Un libro per il quale sono stata chiamata l'entomologa del linguaggio oppure la biografa della perversione. Io vi aspetto, staremo nella nuvola di Fuxas in Viale Asia 4044. Buonanotte, vi aspetto, ciao!